Buon pomeriggio a tutti siamo in un evento dell'ISFA la nostra associazione no profit per chi è le prime ai primi nostri incontri o non ci conosceva ci sta conoscendo in questa occasione vi rimando al nostro sito a sito isfa.it potete iscrivervi come soci non c'è bisogno di essere esperti abbiamo 700 750 soci di varie diciamo estrazioni forse dell'ordine legali consulenti avvocati magistrati un po di tutto e abbiamo tutti in comune la passione per l'informatica forense le indagini informatiche e questo che c'è a comune tentiamo di fare diciamo network e innalzare le competenze diciamo degli appassionati e anche dei professionisti che si dedicano a queste attività in modo diciamo continuo Oggi abbiamo come nostro ospite il professore Ametrano Ferdinando Ametrano che ringrazio abbiamo organizzato questo seminario con lui Oggi il professore Ametrano diciamo ci presenterà lui è diciamo rappresentante diciamo del Digital Gold Institute fa diciamo è docente di questa materia diciamo in numerosi contesti universitari ma con noi è oggi come ospite per cercare di trovare diciamo di entrare in un approccio divulgativo Ma anche tecnico in quelle che sono le criptomonete in quelle che sono le tecniche diciamo sia di funzionamento e ovviamente anche le opportunità e anche le problematiche investigative sulla materia. Io diciamo lascio la parola diciamo liberamente a Ferdinando che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Mi permetterò di interromperlo solo se avessi una curiosità o qualcuno vi chiederei diciamo di lasciare un 45 minuti al nostro relatore per la sua relazione anche delle slide. E' chiaro che se ci sono delle domande o le scrivete nella chat e quindi tenteremo poi diciamo le leggeremo alla fine oppure ci daremo un question time agli ultimi 15 minuti per affrontare le vostre domande e le vostre curiosità. Quindi vi chiederei comunque di mettere tutto il muto e di lasciare la parola solo al relatore. Grazie Ferdinando, a te la parola. Grazie a voi. Condivido le mie slide. Se mi date un cenno del fatto che siano visibili vi ringrazio. Sì, si vedono. Perfetto. Allora, mi imbarazza in un certo senso questo nostro webinar perché non conosco bene l'audience che ho di fronte. o meglio forse addirittura temo che alcuni tra i partecipanti possano essere più qualificati o più preparati di me su alcuni aspetti tecnici. E allora ho preparato un deck che potrebbe, che possiamo riutilizzare anche a fronte di eventuali vostre domande in maniera piuttosto diversa. Io salterei, a meno che non ci siano proprio degli interventi decisi di qualcuno che invece me le chiede come funziona una transazione Bitcoin, cosa siano gli indirizzi Bitcoin, cosa sia il linguaggio di scripting di Bitcoin e quindi le transazioni standard, che sono contenuti tecnici il cui approfondimento in un'ora evidentemente risulterebbe faticoso, ma che in qualche modo fanno parte delle slide che poi verranno definite. e assumo che questa familiarità quindi già ci sia il concetto di chiave privata, di chiave pubblica, di indirizzo e andrei quindi decisamente verso la, sostanzialmente la parte di, scusate che scorro, avrei dovuto farlo prima, eccoci qua, ci siamo quasi, di forensica. Allora, allo stessa maniera con cui sono state saltate quindi queste componenti tecniche che diamo per scontate, c'è un'altra premessa che io vorrei liquidare soltanto in pochissime battute, ma che ritengo fondamentale. Ed è la premessa che noi in qualche maniera andiamo a guardare oggi il fenomeno Bitcoin o in generale delle currency, delle cryptocurrency blockchain based, dal punto di vista patologico, dei loro utilizzi patologici. E ora, io molte volte mi prendo gioco di alcuni dei miei interlocutori tutti preoccupati per l'utilizzo criminale delle criptovalute, facendo degli esempi anche poco, un po' borderline. Dico che parlare di Bitcoin preoccupandosi della criminalità è un po' come parlare di sessualità preoccupandosi appunto di stupri e di pedopornografia. Cioè è indubbio che fenomeni patologici ci siano, è indubbio che non è il modo migliore di guardare a un fenomeno che ha sicuramente degli aspetti interessanti e rilevanti in termini di libertà, in termini di avanzamento della storia della moneta e della finanza. Se però c'è un momento in cui un occhio, un'indagine patologica è appropriata, è proprio questo del nostro webinar di quando quindi ci si preoccupa di fare forensica. Questo perché in me convive da un lato il libertario che sostiene assolutamente che in questo momento della storia, che questo sia il momento della storia in cui la moneta si sta separando dallo Stato e quindi non è più prorogativa del sovrano. E se noi riflettiamo quanto sangue nella storia è scorso per separare la Chiesa dallo Stato possiamo intuire quanto sangue, perlomeno intellettuale e culturale, per fortuna speriamo non più violento, scorrerà per separare la moneta dallo Stato. Ma dall'altro lato c'è un uomo che apprezza e ama il diritto, quella che gli anglosassoni chiamano la rule of law, cioè qui non c'è alcuna intenzione di favorire la criminalità che invece va perseguita con efficacia, tant'è che in passato mi è anche capitato di fare formazione su questi temi per la guardia di finanza. Allora, forensica. La forensica rispetto a qualche anno fa, quando era veramente un'attività pionieristica, è ormai qualcosa di più standardizzato e rodato. Per esempio ci sono delle soluzioni software, dei tool, dei software appunto, come quelle offerte da C-Analysis, che prevettono di fare forensica e che sono di fatto ormai diventati lo standard per questo tipo di analisi. Vi rimando anche alla ricerca che C-Analysis fa, in particolare ai loro report periodici, che io trovo di straordinario interesse. Tra l'altro l'approccio di C-Analysis è un approccio che a me piace molto, pur essendo loro attivamente in prima linea, nel contrasto della criminalità e del riciclaggio sui temi appunto delle criptovalute, hanno una visione estremamente equilibrata e per esempio fanno vedere come meno del 2% delle transazioni Bitcoin sono transazioni che riguardano fenomeni illeciti. Perché di nuovo lasciatemi difendere un po' il tema Bitcoin, esco proprio adesso da una conferenza con rappresentanti di Banca d'Italia e con esponenti del mondo accademico italiano, in cui si continua a dire che Bitcoin è usato fondamentalmente per scopi illeciti. Non è vero, non è affatto vero. Detto questo, gli scopi illeciti vanno contrastati. Di nuovo, e sarà l'ultima volta che io faccio una considerazione qualitativa di questo tipo, ricordiamoci che il cartello colombiano continua a preferire il dollaro a strutturitenze, che la criminalità usa l'aviazione, usa la telefonia cellulare, usa internet, non per questo noi demonizziamo tutti questi aspetti. Abbiamo visto che in particolare, in realtà, gli aspetti fraudolenti dell'uso delle criptovalute non riguardano nemmeno il riciclaggio, ma su questo torneremo, spero di potervi dare un punto di vista particolarmente pregnante sul tema del riciclaggio, ma più avanti, ma riguarda fondamentalmente le truffe e il darknet. Cioè, parliamoci chiaramente, Bitcoin come moneta transazionale non decolla, chi ha comprato due pizze nel 2010 pagandole 10.000 Bitcoin, cioè i corsi attuali, 500 milioni di dollari, non ha fatto un'operazione finanziariamente ragionevole, quindi l'unico Bitcoin transazionale che funziona è il Bitcoin transazionale che permette di comprare ciò che con gli euro e con i dollari, o perlomeno con le carte di credito, su internet non si trova. Cioè, tutto quello che è in vendita nel dark market, droga, numeri di carte di credito e in parte minore anche armi. Ma vedete che la componente principale è la componente di truffe. Bitcoin ha un altro aspetto che noi dobbiamo capire molto bene, che è il tema della fungibilità. Tutti noi sappiamo che Bitcoin non è tecnicamente anonimo, cioè che in realtà è pseudonimo, cioè l'indirizzo Bitcoin non è associato a un nome, ma essendo il registro transazionale di Bitcoin un registro transazionale fondamentalmente aperto, accessibile da tutti e disponibile a tutti, transazioni Bitcoin lasciano tracce indelebili che sono indagabili nel tempo anche a danni di distanza con estrema efficacia. Dall'altro lato, la mancanza di privacy finanziaria ha degli impatti di sicurezza e in generale di privacy intesa come diritto dell'uomo estremamente importanti. E questo perché lo dico? Perché se oggi gran parte della forensica è impegnata a contrastare l'utilizzo di transazioni a fini illeciti, in realtà c'è tutta una parte di skills tecnologici e di comprensione di queste tecnologie che va nella logica di fornire a chi transa valore sulla rete Bitcoin quella privacy di minimo livello che è fornita dal sistema bancario nelle transazioni. Cioè le transazioni del sistema bancario sono accedibili alle forze dell'ordine, all'indagine delle forze dell'ordine, ma non sono trasparenti per tutti. Questo perché c'è una criminalità sempre più significativa in ambito cyber che per esempio prende di mira tutti gli early investor Bitcoin. Qualche mese fa abbiamo visto violato l'e-commerce di Ledger, Ledger è un venditore di hardware wallet su internet, quindi di quei dispositivi noti talvolta come hardware security modules, quindi sono componenti hardware con all'interno un secure element che contiene il segreto, quindi le chiavi private usate per poi firmare una transazione. Chiaramente la violazione dello shop di e-commerce è stata grave perché? Perché ha rivelato indirizzi email e indirizzi fisici di tutti coloro che negli anni hanno comprato dei dispositivi da leggere, e quindi di tutti coloro che probabilmente avendoli comprati detengono criptovalute. Anche io stesso come amministratore delegato di una società che si occupa di custodia Bitcoin per istituzionali e i-network individuals che si chiama Chexig, noi utilizziamo dei Ledger e ho ricevuto queste email di phishing straordinariamente ben fatte, molto meglio della media che si vede sta in giro negli anni passati, che volevano ovviamente che io aggiornassi il mio Ledger con del firmware non originale, per rubare evidentemente i segreti contenuti all'interno. Dall'altro lato, addirittura, ho ricevuto delle email da Tinder, cioè il sito di dating online a cui non mi sono mai iscritto, almeno non per ora, però col mio indirizzo di lavoro risultavo iscritto ed evidentemente le signorine che volevano uscire la sera con me dandomi appuntamento su Tinder non erano evidentemente interessate alla mia persona, ma molto di più ai miei Bitcoin. Quindi questo vuol dire che in realtà c'è tutta una attività di intelligence, di eminence tecnologica che potrà essere anche, e dovrà essere anche destinata a difendere operatori legittimi da queste intrusioni. In realtà anche qualunque merchant online che usa Bitcoin mostra a tutti i suoi competitor i flussi transazionali di ingresso e uscita e quindi dà il fianco a uno spionaggio industriale, chiamiamolo così, che può anche indebolire delle posizioni negoziali. Quando noi parliamo di fungibilità ci riferiamo di solito alla fungibilità dell'oro, tutti gli atomi d'oro sono uguali, motivo per cui mia moglie indossa una vera nuziale, magari alcuni grammi d'oro potrebbero essere stati coinvolti alcuni secoli fa in sanguinosissimi crimini, ma mia moglie, ma quegli atomi d'oro non raccontano nulla della loro storia, mia moglie è tranquilla nell'indossare la vera nuziale. E anche il contante è fondamentalmente fungibile, cioè una banconota da 100 euro ha lo stesso valore di un'altra banconota da 100 euro, tant'è che quando noi vogliamo in qualche maniera bloccarne o diminuire la fungibilità, pensate quando, forzando un banco, l'inchiostro macchia indelebilmente quelle monete, le rende tutte rosse, tutte colorate, in maniera che se poi uno le usa all'esse lunga, la cassiera in qualche maniera si insospettisce. In generale, la moneta elettronica, la moneta elettronica, per esempio, richiede la travel rule, cioè il gruppo FAFT-GAFI, che sono i regolatori internazionali che danno le prassi, le regole di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, quelle regole che se un paese non segue entra nella cosiddetta blacklist dei paesi che non rispettano appunto le norme internazionali, richiede che di ogni transazione si conosca il destinatario, cioè il beneficiario e l'originante. Nel caso dei cryptoasset, come si può tener conto della travel rule, beh, fondamentalmente, da un lato, strumenti come Chainalysis creano dei grandi registri di indirizzi bitcoin whitelisted e di indirizzi bitcoin blacklisted, no? Cioè, se... e questo permette ad aziende come Chexig, appunto, alla mia società, quando prendiamo in custodia bitcoin dai clienti, di verificare se arrivano da un exchange regolato piuttosto che da un exchange in giurisdizioni sospette piuttosto che ancora da un drug market negli ultimi due casi evidentemente scatterà la segnalazione di operazione sospetta. Questo però è estremamente complicato nel mondo crypto perché nuovi indirizzi possono essere generati a piacere in numero sostanzialmente illimitato. E allora spesso quando io mi trovo a fare da consulente per il regolatore suggerisco una certa attenzione o prudenza nell'andare in questa direzione perché la creazione di blacklist e di whitelist non farà altro che spostare gli utenti da industrie regolate e attente alle norme e al diritto internazionale a industrie non regolate in paesi offshore in giurisdizioni alquanto discutibili e quindi dare di fatto adito a un mercato che venendo marginalizzato diventa paradossalmente sempre più problematico tenete conto peraltro che bitcoin nella sua aspirazione a diventare oro digitale o a essere oro digitale la fungibilità cioè il fatto che tutti i bitcoin siano uguali diventa importante e sì perché uno in questo momento potrebbe dire che un bitcoin lo paga di più perché questo bitcoin è rintracciabile al genesis block cioè il primo blocco della blockchain bitcoin e quindi è Satoshi Nakamoto e quindi in qualche moneta in qualche modo avrebbe un valore collezionistico questo renderebbe bitcoin non fungibile e di fatto la tracciabilità della blockchain in generale rende bitcoin non fungibile e quindi mina alle basi la sua proposizione di essere oro digitale perché ripeto l'oro di per sé è fungibile pensate che l'oro è talmente fungibile che per evitare che la criminalità usi l'oro per il riciclaggio uno standard internazionale che sempre più si sta imponendo è il fatto che il lingotto d'oro deve avere il marchio della fonderia in cui è stato creato e le fonderie in qualche maniera regolate o affidabili sono in una lista di pochissime al mondo tempo fa nei forzieri aurei presidiati da JP Morgan si scoprirono lingotti falsi ma badate che cosa voleva dire lingotti falsi non voleva affatto dire che quei lingotti non erano d'oro ma che il marchio della fonderia e il numero seriale della fonderia erano falsificati con molta probabilità si trattava di lingotti d'oro ma quindi di oro 24 carati per carità ma di provenienza cinese e quindi di fonderie abusive che chiaramente creavano quei lingotti per riciclare oro di provenienza più o meno illegittima quindi il regolatore internazionale dove ha un oro che madre natura ha reso chiaramente fungibile e che non racconta nulla della sua storia tradizionale bene il regolatore cerca in qualche maniera di limitarne la fungibilità tramite questo stratagemma di marchiatura del lingotto figuriamoci invece dall'altra parte abbiamo bitcoin che invece è tracciabile che non è davvero fungibile ma qui la tecnologia e l'evoluzione tecnologica sta cercando di rendere bitcoin fungibile e quindi faticosamente tracciabile magari avete sentito parlare della tecnica del coin join la tecnica del coin join è quella siccome una transazione bitcoin sostanzialmente brucia distrugge dei transaction input cioè dei coin che entrano in una transazione e crea dei nuovi transaction output è un po' come se io andando dal barista quando gli do una banconota da 10 euro per pagare la mia cappuccina e brioche quella banconota da 10 euro venisse distrutta e venissero create due banconote una da 3 euro che trattiene il barista e una da 7 euro che torna a me ecco in realtà l'idea di coin join è quella di prendere input che originano da transazioni che sarebbero economicamente distinte quindi io Claudio Martini Vincenzo Devaio Roberto Murenek consolidiamo insieme tutti gli input tutte le banconote bitcoin che vogliamo spendere e con un'unica transazione generiamo gli output che vanno ai merchant a cui paghiamo agli intermediari a cui paghiamo e i resti che tornano a noi è chiaro che quando io fondo assieme transazioni che economicamente hanno originanti e destinatari diversi faccio quindi un coin join beh a questo punto le transazioni non sono più indagabili tramite semplici strumenti di forensica ma lo restano ma gli strumenti di forensica diventano molto più complicati se non altro per esempio strumenti come C-Analysis segnalano i cosiddetti mixer cioè quei server che facilitano la creazione di operazioni di conjoin come fonti sospette per esempio quindi quando un cliente di una borsa di un custodian dovesse depositare presso quella borsa bitcoin quel custodian bitcoin regolati di quelli insomma onesti sicuramente quello sarà un campanello d'allarme che farà scattare una segnalazione di operazione sospetta altre tecniche criptografiche più avanzate vanno verso confidential transaction che di fatto rendono cifrano all'interno della transazione gli importi coinvolti quindi si vede la transazione sulla rete ma non se ne vedono gli importi ovviamente c'è una grande complessità criptografica per fare in maniera che transazioni di questo tipo siano comunque economicamente sicure cioè non permettano agli attori della transazione di creare moneta dal nulla ma su questo potete fidarvi che funzionino la notizia cattiva dal punto di vista della forensica e che non si capisce più gli importi coinvolti e quindi la forensica risulta grandemente diminuita monero è la criptovaluta che più di tutte ha usato le confidential transaction in combinazione con un costrutto criptografico chiamato ring signatures per raggiungere sostanzialmente l'anonimato e la fungibilità totale e devo confessarvi che dal punto di vista criptografico io sono straordinariamente entusilasta di questa soluzione tecnica pur essendo consapevole della problematicità che questa crea tant'è che monero in linea di massima non è mai scambiato su alcuna delle borse più affidabili e più inadeguatezza regolamentare rispetto alle normative attuali questo però è qualcosa da tenere presente perché se io fosse un criminale che deve far perdere le tracce di bitcoin sporchi probabilmente quello che farei oggi andrei verso un exchange come si dice cripto cripto dove converto i miei bitcoin in monero quindi non in euro in dollari faccio passare un po' di tempo e poi converto questi monero di nuovo in bitcoin e poi convertirò i bitcoin in euro in dollari se ovviamente faccio attenzione a entrare in monero in fasi successive e a uscire da monero in più momenti successivi senza che ci sia un match uno a uno degli importi di ingresso e degli importi di uscita ho di fatto lavato la mia criptovaluta altro motivo per cui tutti gli exchange cripto cripto sono spesso marchiati come sospetti dagli strumenti di forensica ma è altrettanto chiaro che gli exchange cripto cripto hanno anche un ruolo assolutamente legittimo non criminale nell'economia delle criptovalute in particolare addirittura potenzialmente potrebbero essere automatizzati fino a diventare più efficienti o perlomeno più economici rispetto alle borse di scambio tradizionali quindi l'investigatore e il regolatore si troveranno di nuovo di fronte al dilemma di una innovazione quella delle borse cripto cripto che è assolutamente benefica e utile per tanti scopi ma che purtroppo si presta anche al lavaggio del denaro sporco un'altra blockchain che non è decollata è una tecnologia blockchain che non è veramente decollata pur essendo criptograficamente davvero straordinaria è Mimble Wimble perché dico questo? perché Monero comunque è una cripto che nel tempo non potrà sopravvivere è una cripto la cui blockchain cresce talmente tanto velocemente in termini di dimensione che tra vent'anni non potrà esistere più ma non è un problema perché nessuno compra Monero come strumento di investimento come che ne so uno fa con Bitcoin che lo compra lo mette nel cassetto e lo tirerà fuori dal cassetto tra 5 anni quando Bitcoin o varrà 0 perché l'esperimento è fallito o varrà un milione di dollari Monero è transazionale è proprio per transare su quel darknet di cui parlavamo e di conseguenza vabbè non ha una sostenibilità tecnologica ma amen non è quello il suo obiettivo Mimble Wimble garantisce la privacy di Monero ma con una scalabilità assoluta è un po' come se la blockchain di Mimble Wimble fosse telescopica quindi dimentica tutti i passaggi di proprietà di un coin ricorda solo di quando questo coin è stato emesso e di chi sia l'ultimo proprietario quindi sostanzialmente è una blockchain che si comprime da questo punto di vista la tecnologia Mimble Wimble è addirittura superiore senza alcun dubbio alla tecnologia sottostante bitcoin bitcoin non può usare Mimble Wimble perché perché non è possibile ex post introdurre le feature di Mimble Wimble nel protocollo ma nonostante questo evidentemente Mimble Wimble ha attivato una serie di processi di ricerca di analisi e di evidenze scientifiche che magari porteranno risultati simili anche sulla blockchain bitcoin e invece come Mimble Wimble è stata implementata un coin che si chiama Green e che però non è mai finora decollato nonostante la indubbia superiorità tecnologica rispetto a Monero e il sottoscritto avrebbe scommesso che avrebbe soppiantato Monero ma per fortuna anch'io ogni tanto sbaglio e questo aiuta la mia umiltà bitcoin quest'anno manderà in produzione proprio in questi mesi in queste settimane c'è il dibattito su come approvare questa modifica protocollare una modifica protocollare nota come Taproot Taproot e in realtà Schnorr Schnorr è sostanzialmente un nuovo schema di firma digitale straordinariamente superiore a quella che viene chiamata DSA cioè Digital Symmetral Algorithm che è lo standard un po' internazionale della firma digitale Schnorr in realtà dal nome del suo inventore predata DSA ma siccome era coperto da brevetto non è mai stato standardizzato anzi il povero Schnorr ha fatto anche causa allo standard DSA che sosteneva era stato inventato solo per aggirare il suo brevetto e detto fra di noi aveva perfettamente ragione DSA per aggirare il brevetto di Schnorr introduce nella firma nel Digital Signature Algorithm una serie di inefficienze che Schnorr non ha Bitcoin è la prima standardizzazione della firma di Schnorr e anche qui si dimostra quanto in qualche maniera ormai la ricerca criptografica che è un'area scientifica che sicuramente ha conosciuto grande crescita negli ultimi decenni ma Bitcoin gli sta dando un'accelerazione straordinaria e oggi le intelligenze migliori e i risultati scientificamente più di ricerca più interessanti sono proprio sul fronte a Bitcoin Schnorr ha una prova formale di sicurezza non è malleabile eviterei di entrare in troppi dettagli ma soprattutto per quello che riguarda noi ha una prima feature è lineare che cosa vuol dire vuol dire che due firme di Schnorr si sommano e sembrano identiche a una firma quindi operazioni multifirma i cosiddetti multiparty computation cioè quelle firme digitali che si vedono essere state effettuate da più attori diventeranno sulle reti Bitcoin indistinguibili dalle firme fatte da un singolo attore e questo chiaramente aumenta la privacy aumenta la fungibilità rende difficile la vita per la forensica l'altra cosa che Schnorr abilita è Taproot nella prima parte della presentazione quella che per ragioni di tempo abbiamo saltato viene spiegato un po' quali sono le tipologie di transazioni Bitcoin caratterizzate dagli script cioè da quali tipi di condizioni criptografiche devono essere soddisfatte per spendere Bitcoin bene Taproot nasconde le condizioni criptografiche di spendibilità di Bitcoin o meglio crea come un albero di condizioni di spendibilità quindi magari i miei Bitcoin hanno cinque diverse condizioni di spendibilità ovviamente basterà soddisfarne una ma quando io li spendo avrò soddisfatto quella singola condizione che rivelo ma le altre quattro condizioni non vengono rivelate e quindi nessuno le vedrà mai da questo punto di vista Schnorr e Taproot aprono la strada a quello che non è ancora disponibile in Bitcoin ma che potrebbe diventarlo che è la cosiddetta cross input aggregation cioè un livello che permette sostanzialmente di fare quello che facevano le transazioni con join cioè unire i transaction input originati da diversi attori economici ognuno dei quali firma la spendibilità dei suoi transaction input quindi dimostra di saper soddisfare le condizioni criptografiche di spendibilità viene creata una transazione che crea dei nuovi transaction output che andranno a quel punto non si sa bene a chi diventa complicato rintracciarmi forensicamente le origini e le destinazioni qui l'idea di cross input aggregation è che quando gli input entrano in una transazione se sono input che devono essere firmati da attori diversi la firma di Schnorr essendo lineare farà sembrare quattro firme come se fosse un'unica firma valida per tutti e quattro gli input e quindi di fatto consente una migliore privacy e soprattutto dà degli incentivi economici perché una transazione bitcoin che ha un'unica firma invece che quattro occupa meno spazio paga meno commissioni sulla rete quindi dando degli incentivi economici di efficienza a una tecnica che ha una maggiore privacy è possibile immaginare che gran parte della rete bitcoin adotti questo standard di nuovo rendendo tecniche di forensica le attuali tecniche di forensica obsolete e qui io ho finito sostanzialmente la prima parte della mia presentazione che è quella un po' più lunga e mi avvio a svolgere a vostro beneficio la seconda che è estremamente più breve però di nuovo proviamo a fare una pausa concettuale e proviamoci a dire di un fatto storico allora da Al Capone in avanti quello che abbiamo imparato è follow the money ricordiamoci che Al Capone non è stato arrestato perché era un mafioso è stato arrestato per evasione fiscale da allora gli investigatori hanno imparato che seguire le tracce del denaro è spesso il modo migliore per incastrare i criminali questo ha funzionato benissimo ma attenzione perché crea dei rischi sistemici cioè la capacità di monitoraggio delle transazioni finanziarie che abbiamo oggi è per noi almeno italiani o comunque abitanti di paesi occidentali fondamentalmente democratici un punto di tranquillità perché ci aiuta a contrastare il crimine ma se Hitler Stalin o Mussolini avessero avuto tecniche di controllo così dettagliate questo avrebbe fatto gran paura ed è il motivo per cui dittatori come Maduro in Venezuela o in Nord Corea si possono oggi avvalere di tecniche che di fatto strangolano completamente la libertà dei loro cittadini e quindi è evidente che come cittadini noi dobbiamo sempre avere chiaro il trade off tra tecniche di indagine che limitano la privacy e i rischi che queste introducono e allora probabilmente alla luce di alcune delle innovazioni criptografiche a cui ho accennato e questo è il momento storico in cui gli investigatori devono prendere consapevolezza che forse alcune delle tecniche investigative abbandonate per pigrizia intellettuale perché era più facile seguire le tracce del denaro oggi vanno riscoperte perché io scommetto che insomma la tracciabilità o il futuro insomma della forensica non sia estremamente radioso o promettente nei giorni e nei mesi e negli anni che abbiamo di fronte per darvi alcuni spunti da questo punto di vista introduco appunto il seconda parte della mia presentazione straordinariamente breve e quindi in pochi minuti la finiamo che tocca alcuni di questi temi che vedete in agenda li tocca in maniera un po' disordinata da appunti ma che vorrebbe quasi essere un'introduzione al nostro dialogo di domande e risposte e quindi sono più da prendere come spunti c'è analysis ne abbiamo già parlato e le sue soluzioni sono know your transaction e reactor ma badate che non è l'unico c'è cypher trace c'è liptik magari vi sto dicendo delle ovvietà magari no ma insomma ci sono diverse soluzioni la ricerca anche scientifica permette di fare delle analisi dei grafi estremamente efficaci e quindi dove non ci sono soluzioni industriali c'è comunque una grande fiorina di ricerca scientifica che fa cluster analysis transaction analysis e può all'occorrenza venire in aiuto degli investigatori esistono anche in ambito cripto le prassi usuali degli adempimenti che bisogna fare per le operazioni sospette quindi presso l'UIF esiste nel mondo cripto anche la consapevolezza tutti gli exchange tutti i custodian che operano inadeguatezza regolamentare usano evidentemente definitive word check o comunque le liste di criminali pregiudicati e persone pericolose come fa il sistema bancario tradizionalmente e anche la guardia di finanza ha una certa capacità per fortuna di intervenire e di bloccare truffe ed evasioni fiscali ciò che di solito quando facevo l'ultima volta che l'ho fatto è stato due anni fa formazione per la guardia di finanza spaventava molto i miei amici finanzieri è quando gli mostravo questo oggettino open dime open dime si presenta sostanzialmente come se fosse una usb key ma vedete quel cerchietto indicato dalla freccia bene il retro di quel cerchietto è un piccolo chip che difende una chiave privata cioè se voi inserite open dime all'interno della vostra porta usb quello che vedete è un file all'interno che ha dentro un indirizzo bitcoin e su quell'indirizzo bitcoin potete vedere quanti bitcoin ci sono quindi che ne so io potrei prendere un open dime sull'indirizzo bitcoin quell'open dime caricare bo l'equivalente di un milione di dollari e darlo in mano ad Andrea Bortolussi il quale Andrea inserisce l'open dime nel suo pc verifica l'indirizzo guarda su qualunque nodo bitcoin su un block explorer che effettivamente su quell'indirizzo c'è un milione di dollari ed ha ricevuto da Ametrano un milione di dollari in bitcoin con una transazione che è completamente off chain cioè non registrata sulla blockchain bitcoin perché Andrea può fidarsi che quei bitcoin ci sono e sono reali e che io non abbia la chiave privata con cui dieci minuti dopo che io e Andrea ci siamo separati con una stretta di mano muovo i bitcoin e quei bitcoin non saranno più sull'indirizzo la garanzia di Andrea la garanzia mia è quella di Andrea è in realtà basata sulla fiducia che abbiamo in quel produttore open dime il quale ha celato la chiave privata su questo stesso dispositivo ma in una maniera per cui non è leggibile perché è protetta da un chip ed è solo bucando cioè forando inserendo una spilla in quel buchetto e facendo saltare il chip che è dall'altra parte che salta la protezione e all'improvviso quella chiavetta che è inserita in una porta usb faceva vedere un indirizzo una chiave pubblica rivelerà anche la chiave privata quindi Andrea ha la certezza che se l'open dime in questione non è stato bucato i bitcoin che ci sono sopra sono veramente dei bitcoin al portatore come se fosse un assegno al portatore e quindi vedete che open dime lo pubblicizza proprio come off chain 100% privato e allora non ci vuole molto a immaginarvi che se i commercianti di droga fanno deglutire a certe povere donne gli ovetti di cocaina per fargli fare i voli transatlantici un ovettino kinder piccolo piccolo che abbia dentro qualcosa del genere che uno deglutisca permetta di portare off chain quantità di denaro tecnicamente illimitate da un capo all'altro del globo in maniera analogica non digitale ma soprattutto non tracciata sulla block chain non accessibile alla forenzica ci siamo anche detti dei servizi di monero e dei servizi di coinjoin l'europol per esempio ha indagato molto il wallet vasabi che facilita coinjoin e quindi lo vede come una delle principali preoccupazioni ma e qui finisco con le slide e vi accenno alla frontiera reale del riciclaggio se un cartello criminale venisse da Metrano e gli chiedesse una consulenza su come fare il riciclaggio a Metrano sconsiglierebbe senza alcun dubbio di usare bitcoin o transazioni bitcoin sulla blockchain o in generale valute digitali che lasciano scie indelebili piuttosto la verità è un'altra piuttosto la verità è che un'organizzazione criminale può andare da un miner in Cina e questo miner che quindi con l'attività di validazione delle transazioni viene compensato per il fatto di finalizzare nuovi blocchi della catena bitcoin questo miner che ottiene un bitcoin che deve vendere sul mercato per coprire i suoi costi operativi potrebbe venderlo a organizzazioni criminali a un premio del 15-20% qual è l'interesse delle organizzazioni criminali di comprare bitcoin a premio da un miner beh che sono bitcoin nuovi di zecca sono bitcoin che non sono mai stati tracciati sulla blockchain sono bitcoin che non hanno mai toccato un indirizzo blacklisted quindi sono bitcoin pulitissimi addirittura io direi quasi che abbiamo un'evidenza aneddotica già oggi di operation di mining promosse da attori italiani in Bulgaria e in Romania attori italiani che non hanno assolutamente la capacità industriale di fare mining professionale ed efficiente cioè economicamente inattivo ma come voi sapete le organizzazioni criminali quando prendono quando la camorra napoletana apre un ristorante a Milano se anche questo ristorante opera in perdita perdite del 15 20 30 per cento sul capitale coinvolto sono considerate un costo di riciclaggio ragionevole e quindi in realtà ci sono questi operatori che comprano hardware di mining ormai obsoleto ormai economicamente inutilizzabile lo accendono comunque generando bitcoin in perdita ma quella perdita del 15 del 20 per cento è del tutto accettabile se quei bitcoin sono nuovi di zecca e rappresentano in realtà il riciclaggio in operazioni industriali di mining in attività industriali di mining in Romania o in Bulgaria delle organizzazioni criminali italiane di nuovo quest'ultima osservazione dovrebbe essere il line motif un po' del contenuto che io cerco di dare oggi poveriggio cioè di dire affiliamo gli strumenti di analisi forensica e utilizziamoli senza pietà nei confronti della criminalità ma dobbiamo purtroppo aver presente che questi strumenti si stanno nel tempo perderanno probabilmente sempre di più la loro efficienza la loro efficacia che il vero riciclaggio e il vero modo di fare transazioni in cripto è completamente off chain come con Open Dime o addirittura va alle fonti del mining per avere bitcoin puliti nuovi di zecca su cui la forensica non rinforcerà nulla di problematico e allora di nuovo facciamo il nostro lavoro di indagine tecnico ma proviamo a sensibilizzare noi stessi e gli altri sul fatto che forse come investigatori c'è bisogno di rispolverare tecniche diverse che stiamo dimenticando di riaffiancarle alle nostre prassi di analisi perché follow the money nel mondo delle cripto sarà qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora a questo punto io ho finito e lascerei spazio alle nostre domande se non vi ho addormentato tutti ma almeno Claudio Martini grazie per la grazie grazie Ferdinando allora grazie per la panoramica che ci hai dato e volevo intanto visto che ci sono diciamo numerose persone qualcuno anche noi siamo diciamo una classe mista oggi quindi comprendo la tua diciamo difficoltà ne abbiamo anche parlato in questi giorni perché abbiamo nell'associazione persone diciamo molto giovani comunque all'inizio delle proprie conoscenze e invece persone che lo fanno per lavoro e si occupano anche di bitcoin investigation quindi è chiaro che diciamo ci sono platee diverse in una stessa classe che è sempre così è sempre un problema perché si diventa noiosi per quelli più bravi oppure troppo complicati per quelli meno bravi questo è è classico e Patrizia giusti c'è qualcosa da e che strano da chiedere buonasera a tutti buonasera ciao no allora a me diciamo io sono nonostante l'età un po' avanzata sono tra quelli più giovani come introduzione nella materia che diceva il professore Costabile perché mi sono avvicinato da poco e sento spesso dire soprattutto tra i miei colleghi io sono un avvocato penalista che c'è una differenza formale sostanziale in questo benedetto bitcoin che in realtà non lo possiamo considerare né una valuta né un sistema di pagamento volevo sapere il professore Ametano che cosa ne pensa se guarda il logo alle mie spalle la risposta ce l'ha già bitcoin non è una valuta non è una moneta il bitcoin transazionale è una fandonia per due ordini di motivi chi ha comprato una pizza nel 2010 pagandola 10.000 dollari cioè 500 milioni di dollari 10.000 bitcoin mi scusi cioè 500 milioni di dollari al corso attuale beh a me sta pizza qua mi rimaneva quindi non è una cosa ragionevole bitcoin non scala può fare 7 transazioni al secondo e quindi il bitcoin transazionale non funziona e non funzionerà mai chiaramente bitcoin real time gross settlement system cioè un bitcoin che sia un po' come target 2 per la banca centrale europea cioè il network su cui transano le operazioni economicamente significative questo sì tant'è che bitcoin è più oro digitale che non moneta cioè bitcoin per la prima volta è un elemento digitale scarso cioè trasferibile ma non duplicabile cioè spendibile una volta a vantaggio di tizio ma non spendibile la seconda volta a vantaggio di caio se noi riflettiamo anche solo per un attimo sul fatto di quanto la scarsità dell'oro fisico sia stata rilevante nella storia della civilizzazione della moneta della finanza possiamo capire quanto rilevante potrà essere bitcoin nella nostra attuale civilizzazione digitale e nel futuro della moneta della finanza purtroppo nel comprendere questo fenomeno ovviamente c'è una grande confusione c'è tanto rumore bitcoin come l'oro fisico è utilizzabile come moneta ci si può fare un pagamento ma non mi risulta che nessuno trovi comodo pagare grattugiando un milligrammo d'oro dalla sua oncia al ristorante prima di uscire tecnicamente sarebbe possibile con bitcoin è straordinariamente facile ecco questo sì cioè grattugiare un centomilionesimo di bitcoin è facilissimo e mandarlo a qualcuno è facilissimo detto questo non è sensato grazie sarò molto gentile grazie il nostro tempo è quasi terminato non so se ci sono altre persone c'è qualcun altro che vuole vuole intervenire con la logica con cui si interrogano quelli più volenterosi i banchi in prima fila io vorrei sentire da Claudio Martini che cosa ne pensa di questo escursus professore mi sente? perfettamente buonasera a tutti beh l'escursus è stato bello io sono uno di quelli che ha partecipato al suo primo convegno forente relativo a bitcoin presso la caserma di via Mattiore Gioia quindi ah quindi domande per me sono poche è stata una rinfrescata quindi comunque è che io non ho millantato no 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 veramente ho fatto no no poi mi passa due bitcoin però eh allora non so se le abbia comprato in quella data se lo ha fatto purtroppo no il procedimento oggi dovrebbe essere molto contento purtroppo non l'ho fatto allora qui bisogna dire questo io ho spesso un giudizio molto transcian sul fatto che è proprio eh è proprio la latitanza di regolatori e del mondo della finanza tradizionale su questo eh frontiera bitcoin che rende l'ecosistema bitcoin pieno di ciarlatani furfanti e truffatori no se uno potesse chiamare la sua banca e dire vorrei comprare duemila euro di bitcoin o ventimila euro di bitcoin le cose sarebbero molto più semplici quindi paradossalmente il regolatore che ne aveva diffidenza che voleva marginalizzare il fenomeno che lo ha in qualche maniera criminalizzato che cosa ha ottenuto? Ha ottenuto che gran fascia della popolazione quelle tecnicamente meno avvertite quelle meno indipendenti quelle meno capaci hanno perso la possibilità di investire nell'asset che ha avuto l'apprezzamento più eh straordinario degli ultimi dieci anni c'è bitcoin tesla apple netflix e amazon i cinque investimenti più rilevanti dell'ultimo decennio e oppure peggio ancora li ha lasciati appunto in preda a questi ciarlatani tutti siamo pieni di email che dicono compra bitcoin ma la maggioranza di quelle robe non sono bitcoin no oppure noi abbiamo adesso clienti con checks che è questa soluzione di custodia che vengono da noi per affidarci il custodia meglio in da ridere ma bisognerebbe piangere per affidarsi di bitcoin e scoprono che non hanno bitcoin hanno comprato dei mining pack o qualcosa di altrettanto fantasioso che tutto sono tranne che bitcoin sono stati truffati no e queste sono le situazioni più più dolorose e che più dispiacciono troppo sì hanno preso aria fritta va bene scusate posso intervenire un'ultima volta è una cosa personale sì Daniela no non è non è personale voglio dire che non è collegato il tizio pensavo che era Michele Russo invece ancora ma allora sei decoccio come si dice a Roma va bene grazie a tutti allora io vi saluto ringrazio anche di questa parentesi grazie a tutti per rispondere grazie Ferdinando e anche della colorita parentesi che hai avuto modo di diciamo della quale hai avuto modo di assistere grazie a tutti del tempo avremo poi un secondo incontro che faremo adesso sto cercando di coinvolgere qualcuno dice in analisi se Ferdinando ha dominato più volte loro sono molto resti a fare dimostrazioni adesso dobbiamo vedere se riusciamo a farla se riusciamo a farla a porte chiuse come facciamo in alcuni casi in modo che in un ambiente più protetto loro sono disponibili o possono essere disponibili a far vedere le loro infrastrutture e le loro piattaforme grazie ancora a tutti passate un buon weekend e al prossimo seminario il prossimo evento dell'ISFA o in giro o come purtroppo in quest'ultimo anno in varie zone colorate ci vedremo online grazie ancora grazie a tutti buonasera ciao Giovi ciao Giovi grazie a tutti